Ciao ragazzi i fantasmi, io sono Tommy22 e oggi sono qui in questo nuovo video di Cassetto Time Prova a... Nonno Ridere Siamo progetti 3, 2, 1, let's go Vabbè Oh Dio mio, oh Dio mio Che? Perché? Che ho? Che è questo? Che è il caso? No, dai è morto il cane ma dai ma dove c'è in questo porca vaca no 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 ma quanto stupida no 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 canotto gang canotto gang come ho fatto no 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 un biscotto ragazzoni belli questo era il mio secondo video spero vi sia piaciuto il mio primo video è stato con slitter.io e questa volta ho fatto qualcosa di diverso per cambiare allora spero che questo video vi piaccia lasciate un like trovate in descrizione e ci vediamo a